Signora Teresa Lacorte, questo episodio brutto, vile, vigliacco, che cosa hai da dire? Io e mio marito siamo dispiaciute a un livello grave, però siamo convinte che le persone che hanno fatto questo a noi, l'hanno fatto a livello personale, sì abbiamo avuto una notte di paura, un scanto enorme, pure voglio dire a queste persone avete colpito a me e mio marito, avete colpito il paese, la zona e il nome della Sicilia e mi dispiace anche per tutti quelli in giro di noi che vogliono lavorare, noi non siamo un'attività commerciale, siamo persone private della nostra casa e spero che quello che esce di questa brutta notte sarà una cosa positiva, che le persone, se c'è qualcuno che sape qualcosa devono contattare i carabinieri, perché non può continuare così. Avete fatto tanti sacrifici per farvi questa vostra casa personale, tanti sacrifici in Inghilterra, la famiglia Bolo che è tornata qua per dare lustro alla Sicilia e a Cianciana, è un episodio che fa male effettivamente. Perché mio marito è deciso di andare in pensione, è deciso di investire quelle soldi che abbiamo di parte, messe di parte dopo 30 anni di lavoro, di investire in questa casa. Non abbiamo avuto aiuto del Stato, non abbiamo avuto i contributi, niente. Noi abbiamo fatto la nostra casa a livello di questo lusso per il nostro piacere, con la disponibilità che abbiamo il camere in più per offrire per le ospite, per il restivo, eccetera. Però questa casa è una casa privata, abbiamo fatto tutto noi. Non abbiamo avuto l'assistenza di contributi, niente. Siamo persone normali. Una vita che lavoriamo, tanti sacrifici, siamo ripagati in questo modo.